Lo avevamo annunciato ieri, il Soverato era praticamente pronto ad ufficializzare anche la nuova regista del Sestetto Ionico. L'indiscrezione si è trasformata in realtà nelle ultime ore. Le chiavi del gioco catanzarese vanno nelle mani di Maria Luisa Cumino, palleggiatrice classe 92, cresciuta pallavolisticamente a Chieri e protagonista della promozione in serie A2 a Bolzano nella stagione 2012-2013. E' reduce da un veloce passaggio in A1 con Forlì per poi essersi accasata in B1 con il Maglie. Dopo l'opposto argentino fresco, le due centrali Nardini e Travaglino, il libero Mastrille, la schiacciatrice bosniaca Begicla, Cumino e il Sesto Tassello. Il quinto nuovo di Zecca incastonato nel nuovo mosaico targato 2015-2016. Atlete fortemente volute da coach Secchi, il quale avrebbe già indicato un'altra schiacciatrice, mentre per la terza centrale si va verso una riconferma della Bertone. Tutto fermo al momento invece a Palmi. La Golem continua a lavorare sotto traccia. L'obiettivo principale resta blindare i pezzi pregiati della Rosa che ha conquistato la promozione in A2. Fondamentali in questo senso saranno le prossime ore.